Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Monsters Italia. Anche se oggi il clima è completamente diverso perché più che mostri abbiamo un'apparizione sacra, un'apparizione che equivale alla regione cattolica e alla storia di Cristo. Qui siamo a Caorle, la piccola Venezia, e vi parliamo di una leggenda, che più che leggenda è una storia vera e propria con documentazioni vere e proprie, della Madonnina del Mare qui alle mie spalle. Siamo al Small Venice, piccola Venezia, Caorle. Questa è la scogliera viva dove ogni anno i migliori artisti del mondo vengono a scolpire il proprio ego nelle rocce e ogni anno c'è questa tradizione, oltre a molte tradizioni di Caorle. Una tradizione di Caorle che coglie la vista è proprio la Madonnina del Mare, che viene festeggiata ogni cinque anni, ma ora ci arriviamo. Proprio in questo mare, che adesso il Bollico vi fa vedere, che due pescatori, come una maggiore cultura di Caorle è proprio la pesca, si imbattono in qualcosa di luminoso in alto mare, in piena notte. Avvicinandosi con la barca vedono che è una statua della Madonna con il bambino in braccio, sopra a una piastra di marmo che misteriosamente galleggia in mare. Questa è più che la leggenda, ragazzi, vi ripeto, è proprio una vera propria storia. Che succede? Questa Madonna viene provata a riva e viene portata al Duomo, che praticamente è alle nostre spalle, che adesso il buon Nico vi fa vedere. Da quello che possiamo farvi vedere, ragazzi, Caorle è molto bella e molto tenuta in maniera incredibile e unica nel suo genere. Quello che vedete in fondo è il Duomo. Proviamo anche a fare una zoomata al Duomo. Quello in fondo che vedete lì, ragazzi, è il Duomo. La Madonna viene messa lì, il giorno dopo i preparativi per la festa e vanno tutto il paese a vedere la Madonna, che misteriosamente la Madonna scomparve. A quel punto, a parte la ricerca della Madonna, a chi ha rubato questa Madonna? È una statua abbastanza pesante e dura, che la Madonna scompare. È lì che la ritrovano, vicino a questa chiesa, la chiesa che affoccia sul mare, come se la Madonna fosse destinata a essere lì. A quel punto decidono che è meglio per la Madonna e meglio per la comunità inserirla in quella chiesa dove la Madonna ancora risiede. E decidono di festeggiarla ogni 25 anni, fino all'arrivo del Cardinale, che poi divenne Papa, che decise perché festeggiare la Madonna ogni 25 anni, quando possiamo festeggiare una festa così bella, ogni 5 anni. Ricordandoci che l'ultima volta che è stata festeggiata questa Madonna è stata nel 2015, vuol dire che nel 2020, cioè fra due anni, la rifesteggeranno. Una storia alquanto strana, una storia alquanto misteriosa, ma è una storia vera. Leggenda contestata praticamente tra molti, ma questa è la storia.